Tu mi avevi portato a tutti i miei libri per vedere se stimolavano la mia memoria. Non te lo ricordi? Ma ne hai dimenticato uno. Non te lo ricordi quale? No, non me lo ricordo. Sì che ti ricordi. Ti ricordi. Piccoli crimini coniutali. Leggendo l'indice dei miei libri ti ho fatto notare che mancava. E tu mi hai risposto che era senza importanza, che io detestavo quel libro. Anziché rimpiangevo di averlo scritto. Beh, è vero, sì. Ho speciato un mio parere per il tuo. È grave? E comunque non è un parere solo mio, è un parere di tutti. Quel libro ha fatto schifo a tutti. Anche altri miei libri non hanno avuto alcun successo. Piccoli crimini meno degli altri. C'è differenza tra niente e meno di niente. Ma se un mio libro ti piacesse, io credo che tu lo difenderesti a prescindere dall'approvazione del mondo. Forse. Non è detto però. Vabbè, comunque, piccoli crimini tu lo adori e io lo detesto. È grave? Ripeto?